Siamo con Amadori, ripresa dei lavori soprattutto del campionato, avete una partita già difficile contro il Sabone. Sì, una partita difficile abbiamo affrontato all'andata, anche se era per loro la prima partita insieme perché avevano cambiato diversi giocatori dalla promozione della seconda divisione. Una squadra forte agonisticamente che corre tanto, la mette sulle palle lunghe e sull'agonismo dobbiamo cercare di essere bravi a sbloccare il risultato, a fargli male con le ripartenze e cercare di non prendere gol, anche perché ultimamente l'abbiamo sempre preso. Sarà la prima di mister Gustinetti in panchina, le tue impressioni dal suo arrivo? Spero che il mister con la sua esperienza riesca a dare una scossa per cercare di fare 15 finali verso la rincorsa ai play-off e a un posto di classifica migliore per affrontare i play-off con più vantaggi.